Allora, partiamo con il Memorial, giusto? Sì, andiamo con l'esibizione. Ricominciamo. Una rassegna di esibizioni di professionisti, mi chiedevano, ma cosa c'è? Adesso vedrete. Una rassegna di professionisti, amici e ammiratori del grande Mino Neitano. E cominciano ad entrare qua. Sì, Mino in trent'anni di attività non smette mai di omaggiare la sua terra. Spesso nelle sue canzoni racconta della condizione degli emigrati, costretti a lasciarla per far fortuna altrove, l'abbiamo detto. Anche lui lo è stato, un emigrato, andando in Germania per esibirsi con i fratelli musicisti. E allora ripartiamo proprio da qui, da una valigia di cartone piena di sogni e di musica. Con il brano L'uomo e la valigia, scritto da Mogol, Condomenico, Franco e Mino Neitano, dirige l'orchestra e il maestro Roberto Carini si esibisce Pippo Lico. Grazie. 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 Grazie.